E quindi nel concreto che cosa fa TypeScript allora? Beh diciamo che TypeScript ci aiuta a ottenere dei suggerimenti mentre scriviamo il codice dicendoci che probabilmente potrebbe non funzionare oppure probabilmente potremmo trovarci di fronte a questa situazione da noi inaspettata. E' un mito da sfatare sicuramente quello che è TypeScript ci permette di scrivere meno codice perché ce lo fa scrivere ottimizzato e quindi ne scriveremo molti di meno. Invece non è assolutamente così, ci porterà a scrivere più codice molto probabilmente, una funzione che magari normalmente in JavaScript potrebbe essere di 3-4 righe, in TypeScript magari diventa di 7-8 perché ci va a aiutare a prevedere possibili situazioni molto molto... scomode. Ma di per sé come funziona? Beh quello che succede effettivamente dietro le quinte è che noi andremo a scrivere in TypeScript, quindi avremo dei file che saranno .ts, nel caso di React saranno .tsx, e questi file, il codice che noi scriveremo in TypeScript, poi verrà transpilato, transpiled, diciamo in questo momento possiamo tradurre in maniera errata in convertito, in codice già alla script che poi verrà eseguito dal nostro browser o dal nostro comunque programma. e quindi questo di per sé fa di TypeScript assolutamente non un linguaggio ma un developer tool. Ma andiamo a vedere effettivamente questo cosa vuol dire. Ci spostiamo un attimo nel nostro playground e questo playground è semplicemente un luogo in cui si può scrivere tranquillamente del TypeScript che ci verrà transpilato, compilato, convertito direttamente in JavaScript. e come potete vedere non cambierà assolutamente nulla se io andassi a dire const user che sia un oggetto e vado a dire che ha nome Ugo e age diciamo di 12 anni, se io vado a provare ad accedere a quello che è user, anzi a dire const mail che è uguale a user dot mail, ecco che io ottengo questa int che mi dice che la proprietà mail non esiste su quello che è l'oggetto user. Però come vedete poi nella compilazione di per sé niente mi impedisce di andare avanti. Se io lanciassi run il codice viene eseguito e effettivamente non ottengo nessun problema. Se io console logassi mi beccarei un undefined e tutto sarebbe finito lì. In JavaScript invece non mi beccarei assolutamente nessun errore. Quindi questo cosa vuol dire che nel mentre ci aiuta e ci segnate gli errori che potrebbero pervenire in compilazione una cosa che non fa è essere assolutamente magico. Se vi provassimo a riproporre quello che è l'esempio che abbiamo fatto prima, quindi number 1 che sia uguale a 3 e sotto avessi const number 2 che è uguale a 3. Io quello che vado a dire è che const sum è uguale a number 1 più number 2. Come vedete non viene segnalato nessun errore perché giustamente è un'operazione che io posso andare a fare. Se console logassi poi direttamente sum, quindi la mia somma è rannassi il codice, viene transpilato ed eseguito poi dal browser e ottengo 33 senza nessun errore. Quindi questo mi dimostra che TypeScript non è magico, è uno strumento che ci viene dato a noi sviluppatori e poi siamo noi a dover appunto gestirlo nella maniera corretta. La soluzione qua è andare a dire che sum è di tipo number e a questo punto, poi noi vedremo cosa vuol dire lavorare con i tipi, quindi ci viene detto che il volo di stringa non è assegnabile al numero. Nonostante io qua comunque come vedete ho un errore, se io comunque andassi a eseguire il codice, comunque non è che vengo fermato da TypeScript o da qualcuno, viene transpilato e effettivamente poi compilato e ottengo lo stesso risultato. Quindi non è che mi impedisce di farlo, tutto quanto funziona con prima, poi il codice viene transpilato e convertito in JavaScript ed eseguito. Presente o no alcun avviso da TypeScript, ok? È solo un check preventivo che viene fatto mentre scriviamo codice, ma non ha nessun effetto concreto sulla compilazione del codice.